Benvenuto in questa videoguida realizzata da Michele Busdraghi, complimenti Michele per la realizzazione di questo filmato perché dà la possibilità veramente di rendersi conto, quasi quasi di toccare con mano queste casse interessanti, questi monitor near field interessanti che sono gli Yamaha MSP5. Piccoli monitor utili per piccoli studio in caso di near field vedrai attraverso la videoguida di Michele quali sono le caratteristiche che rendono vincenti questi monitor e dove invece sono anche leggermente penalizzati, potremmo dire che hanno comunque alcuni difetti essendo dei monitor piccoli. Quindi ti lascio alla prima parte introduttiva in cui Michele oltre a fare una panoramica generale delle caratteristiche della cassa ti dà anche alcuni consigli sul posizionamento vero e proprio degli speaker nel tuo home studio, la parte approfondita invece ti consiglio anche quella di guardarla perché è veramente approfondita. Quindi Michele complimenti, se ti capita di dover fare una registrazione sei in zona Michele insomma puoi contattarlo perché hai a che fare veramente con un professionista, oltretutto le sue videoguide sono sempre molto interessanti e ben curate. Buona visione perciò della parte introduttiva e soprattutto buona visione anche della parte approfondita in cui riuscirai a scoprire diversi trucchetti diciamo così e a ottenere diverse informazioni davvero utili per quanto riguarda la scelta di questo tipo di monitor. O comunque anche in generale insomma delle considerazioni che vanno bene un po' su tutti quelli che sono i monitor near field di piccole dimensioni. Quindi videoguida consigliatissima. Buona navigazione su scuolasuono.it e buona visione. Ciao! Ciao! Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Io sono Michele Busdraghi dell'Automaticos Studios di Firenze. Puoi visitare la mia pagina profilo scuolasuono per avere maggiori dettagli. In questa videoguida parleremo dei monitor Yamaha MSP5. I monitor sono di colore nero opaco, molto compatti. Sono near field, attivi e bi-amplificati. I due coni sono rispettivamente. Da 5 pollici il woofer con un amplificatore da 40 W e da 1 pollice il tweeter con un amplificatore da 27 W. Le dimensioni non troppo grandi rendono questi monitor ideali per home studio, ma anche per studi più grandi se affiancati ad esempio ad un'altra coppia di monitor medifield. Essendo gli MSP5 monitor near field, il costruttore ci suggerisce di fare molta attenzione durante il loro posizionamento rispetto alla posizione di ascolto. Infatti il sistema di monitoring near field è pensato per l'ascolto ravvicinato, per cui se non si rispetta tale accorgimento avremo sicuramente una perda di accuratezza e linearità in fase di ascolto. Vediamo ora le specifiche tecniche. Speaker bi-amplificati a due vie, cioè ognuno dei due monitor possiede un amplificatore interno da collegare alla presa di corrente. Frequenza di crossover a 2,5 kHz, ovvero rappresenta il punto in cui lo spettro sonoro viene diviso tra il tweeter e il woofer. Il livello massimo di uscita è 101 dB a 1 m in asse. Questo livello di pressione sonora è ottimo se pensiamo che è quello percepito ad 1 m di distanza. E a quella distanza è più che sufficiente per ogni genere di mix. Dimensioni 179 mm di larghezza, 279 di altezza e 208 di profondità. Non sono molto grandi. Peso 7,9 kg, schermatura magnetica per cui possono essere posizionati vicino ad ogni tipo di strumentazione, ad esempio un schermo, un computer, un mixer, senza avere una degradazione del suono o effetti indesiderati. Connessione input XLR bilanciato con impedenza di 10k Ohm. Connessione input da un quarto di pollice sbilanciato. Indicatore LED verde acceso e rosso per il clipping. Woofer da 5 pollici con un amplificatore a 40 W. Twitter da 1 pollice con un amplificatore da 27 W. Assorbimento 60 W. Risposta in frequenza da 50 Hz a 40 kHz. Nella parte posteriore abbiamo low e high trim switches. Per il low trim, con un settaggio a più 1.5, le frequenze intorno ai 60 Hz vengono boostate di 1.5 dB. Con i settaggi di meno 1.5 e meno 3, lo stesso range di frequenze viene tagliato di 1.5 e 3 dB. Mentre con l'high trim, meno 1.5 più 1.5, avviene la stessa cosa però attorno ai 15 kHz. Per ora è tutto. Nel prossimo video scoprirai quali sono i punti di forza degli MS P5, faremo un'analisi della sua risposta in frequenza e ti dirò le mie impressioni sull'utilizzo dei monitor e vari mixaggi. Ti ricordo che per accedere al video di approfondimento sugli MS P5 devi effettuare la registrazione gratuita. Ciao